Musica Duri, difficili, perché non è stata difficile solamente in ospedale Perché io vedevo tutti i bambini che giocavano Io ho aiutato me, aiuto anche voi Non disperate, non disperate Io, anche ora ho avuto gli esami Mi ha accompagnato e mi ha preso per la mano E sono andata benissimo E la mia vita è completamente cambiata Mi è esploso qualcosa dentro Dopo che l'ho accettato, ho sentito una pace meravigliosa, bellissima E ha cambiato il modo in cui vedo le persone Chiedevo la cosa sbagliata, la forma sbagliata Perché Dio ci ha detto, lascio mio figlio perché lui sia Gesù ha soddisfatto la mia anima come nient'altro poteva fare Ha tolto la mia sete esistenziale Dopo andai al lavoro e non vedevo l'ora di tornare a casa per rileggere la Bibbia E lo scrissi subito a Valerio Sare del tempo, grazie alla mia famiglia e alla chiesa Ho fatto una vera esperienza con Dio Mi sta aiutando a vincere le mie paure e le mie ansie E sta aiutando anche le persone Io credo anche che Dio non fa le cose per caso Lui ha un progetto per ciascuno di noi E non farebbe mai niente per metterci in difficoltà Mi sono divolto a Dio chiedendo aiuto Per la vita mia, per la mia famiglia Che nonostante tutto, lui ci è sempre stato Salve